Qual è la sua chiave di lettura sulla presunta intimidazione al comandante della Polizia Locale di Agrigento Cosimo Antonica? Io vorrei aprire questa intervista con una richiesta ai cittadini che apparentemente c'entra poco con la intimidazione ai vigili urbani, invece c'entra moltissimo. Io chiedo ai cittadini oggi di venire dalle 19 in poi a Porta di Ponte, oggi venerdì e domani sabato, per firmare per la mia candidatura a sindaco di Agrigento. Necessitano 500 firme e le devono mettere i cittadini. E firmare per mandare Arnone a fare il sindaco significa esprimere la propria solidarietà al comandante Antonica e all'intero corpo dei vigili urbani, perché il problema è l'isolamento che i vigili urbani hanno subito da un anno all'interno di questa amministrazione comunale e di questa burocrazia. Io oggi scrivo al Procuratore della Repubblica per dire al Procuratore qual è lo stato del boicottaggio, dell'ostruzionismo, della esposizione personale di chi si è battuto per il ripristino della legalità nel settore del commercio, nel settore delle autorizzazioni commerciali, nel settore delle occupazioni del suolo pubblico. Se Antonica non fosse un uomo che viene dall'arma dei carabinieri e quindi una persona molto ma molto solida, potremmo dire che è portato a vivere momenti di autentica disperazione all'interno del comune di Agrigento. Cosa ha fatto il nuovo comando dei vigili urbani? Ad esempio, ha messo mano su tutta la scandalosa tematica delle occupazioni del suolo pubblico. Autorizzati i chioschi per 15 metri quadrati diventano 200 metri quadrati. Sono reati, sono fatti in danno alle casse comunali, sono fatti in danno alla vivibilità di questa città che è diventata uno schifo. Bene, da un anno e passa, le denunzie, i rapporti, le informative, le richieste dei provvedimenti del comandante dei vigili urbani vengono inzabbiate. Tutto questo è soltanto scandaloso. Avere un assessore come Rosalda Passarello che pubblicamente dice che i venditori di ortofrutta, questi che fanno le occupazioni abusive in danno del comune, sono disponibili a regalare a lei, a Rosalda Passarello, la frutta gratuitamente perché la vedono come quella che si contrappone ad Arnone e alle richieste di legalità nella gestione dei suoli comunali. Tutto questo è isolare chi come Cosimo, Antonica e i vigili urbani si battono per la legalità. Antonica ha scritto qualche mese fa l'ennesima lettera dove nei confronti di Chiro Boicotta scriveva che le lettere ostruzionistiche di un altro dirigente comunale erano, ascoltate l'espressione di Cosimo, Antonica, ginnastica burocratica, cioè si facevano girare le carte solo per favorire gli interessi illettiti. E un ex assessore, oggi impegnato in campagna elettorale, ha avuto la faccia tosta di proporre al Consiglio Comunale sanatorie per chi, avendo autorizzato i 20 metri, ha fatto cose da 200. Tutto questo è intollerabile, come la vicenda del distributore di benzina che vede pure illegalità e l'esposizione del comando dei vigili urbani. Di queste cose dovrà occuparsi il Procuratore della Repubblica per quanto di sua competenza e il Sindaco Zambuto che su tutto questo ha contribuito ad isolare Cosimo, Antonica.